Ciao, bentornato e benvenuto sul Pensiero Non Lineare. Sono la dottressa di Myo, psicologa clinica e sono umilità di essere anche oggi qui con te per continuare insieme questo viaggio tra e intorno alle stanze della psicologia. Per prima cosa, se vuoi, ti invito ad indossare gli auricolari al fine di avere un'esperienza che sia più convolgente. Poi, come dico sempre, fa un bel respiro. Sciogli i muscoli del collo, delle spalle e della schiena. Trova una posizione che sia per te comoda, siediti oppure stenditi e se ti va, togni anche le scarpe che io le ho già tolte. Il viaggio di oggi sarà un viaggio molto interessante perché ci porta ad esplorare un qualcosa che, insomma, spesso è un po' latitante per così dire. È un qualcosa che spesso c'è, non c'è, crolla, è carente, ecco. Però, aspetta, aspetta, non ti dirò molto altro adesso, sai, perché se sei pronto, tre, due, uno. Allaccia le cinture che si parte. Newton, nel 1973, ci spiega la motivazione. Dicendoci quindi che la motivazione è una serie di processi coinvolti nella determinazione del comportamento. La motivazione è quindi uno stato interiore in virtù del quale un organismo intraprende una determinata azione. In letteratura i concetti relativi alla motivazione possono essere distinti in due grandi gruppi, a seconda che guardano al polo interno, quindi l'impulso e la tendenza dell'individuo, o al polo esterno, la valenza specifica dell'oggetto. Al primo gruppo appartengono concetti come bisogno, tensione, drive, che è uno stato temporaneo dell'organismo prodotto dalla mancanza di qualcosa di necessario o da una stimolazione dolorosa che decresce nel momento in cui viene raggiunto l'obiettivo, l'istinto e così via. Mentre al secondo appartengono concetti come valenza, valore, valore affettivo e così via. Gli stati pulsionali che determinano il comportamento si distinguono i stati pulsionali momentanei, quindi desideri, bisogni e intenzioni, e disposizioni motivazionali stabili, definite come dei tratti stabili della personalità che innescano un processo di pensiero sulle opportunità da sfruttare per il raggiungimento di un determinato obiettivo. Nel processo motivazionale intervengono quindi degli incentivi, che possono essere estrinseci o intrinseci, ovvero ricompense che muovono verso scopi e obiettivi. Nello studio sulla motivazione sono stati riconosciuti diversi livelli sulla base dei concetti, ad esempio di riflesso, istinto e pulsione. I riflessi sono definiti come forme di attività dell'organismo biologico in reazione a stimoli esterni oppure interne. Gli istinti sono sequenze comportamentali automatiche dirette verso una meta in relazione a sollecitazioni ambientali. Le pulsioni sono forze interne dell'organismo correlata ad una serie di bisogni naturali, non costituiti secondo una sequenza standard, poiché intervengono la rappresentazione in termini sia cognitivi che motivazionali e le modalità strumentali per la soddisfazione, pertanto non costituiscono una sequenza prefissata. Pulsione e bisogno, inoltre, solo all'apparenza risultano due concetti interscambiabili, poiché la pulsione è una spinta interna, determinata da aspetti biologici, mentre il bisogno è ciò che fornisce contenuto concreto alla spinta. Il bisogno, quindi, non appare connesso con la pulsione fisiologica, ma con aspetti complessi della vita umana, ad esempio i valori astratti, e possono dipendere, in sostanza, dalla relazione con il mondo sociale. Nel dibattito contemporaneo, inoltre, si considera la motivazione come quel qualcosa che crea, dirige e finalizza il comportamento umano, e soprattutto non c'è più una separazione tra emozione e motivazione, ma anzi la motivazione viene studiata in intreccio, e quindi in relazione all'emozione provata. Viene infatti attualmente considerato un sistema unico, che è cognitivo-motivazionale-emotivo, all'interno del quale la motivazione al raggiungimento di uno scopo origina il comportamento, e una volta raggiunto o meno lo scopo, si genera un vissuto emozionale, che a sua volta determina, rinforzando meno il comportamento. Bene, anche per oggi questo piccolo viaggio insieme giunto al termine, spero che sia stato comunque di tuo gradimento. Io, come sempre, sono stata abilita di essere stata anche oggi qui con te, e se c'è qualche curiosità o qualche suggestione, puoi lasciarmi insomma un feedback un po' dove ti pare. Io però, come ben sai, insomma ti aspetto, perché l'aereo del pensiero non allenare non si ferma mai, quindi domani se lo vorrai io sarò sempre qui, sempre e soprattutto senza scarpe, perché incomincia insomma a fare anche più caldo, quindi sono molto contenta. E quindi ti aspetto, e ricorda che finisce bene quel che comincia male, non slacciare le cinture allora, perché domani saremo sempre qui. Ciao e alla prossima!